Sì, si deve provare. Troppo nitolo? Eh, Giano mi ha portato a un altro livello. Va di vetro? Giano, hai cambio? No. Ah, certo. Perché non fai tutta una puntata in rima? E anche... Giapponello o... Vabbè, no, Tadiano, tutto in rima. No, grazie, grazie. Allora, ti do 24 ore, ok? Ehi, calmo. Vale, mi dai st'internet? Eh, sì. Guarda Vale che ti arriva una bella lignata, stai attenta con il tethering, cioè con il roaming. Cosa devi fare? Eh, devo comunicare con lei. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.